Sì, senti, ci penso io. E la chiudiamo. Taxi? Sì, fatti. Tranquillo. Lei ha qualche esperienza come badante? Non l'ho mai fatto, ma di sicuro posso imparare. Allora andiamo da Will. Will, ti presento Louisa Clark. Mattan le spiegherà le procedure e l'attrezzatura di Will. Non parlare come se non ci fossi. Non ho il cervello paralizzato. Ancora. Buongiorno. E per cosa sono qui? Per tirarlo un po' su. Ho pensato che potremmo andare fuori. Mia madre dice che sei una chiacchierona. Sì. Possiamo fare un patto. Facciamo che tu sei porto taciturna. Quando sei con me. Buongiorno. Mi detesta. Ogni volta che parlo mi guarda come se fossi stupida. Per la verità tu sei piuttosto stupida. Sì, ma lui ancora non lo sa. Interessante scelta di calzatura. Che cosa vorresti dire? Non possono venire da qui. Perché no? Perché questo è un posto dove le persone vengono quando sono stufe di vivere. Sono felice qui. Beh, non va bene. Si vive una volta sola. È tuo dovere sfruttare la vita al massimo. Will, posso chiederti una cosa? Sospetto che lo farai comunque. Scusa. Scusa. Sono di nuovo chiacchierona. No. Resta. Dimmi qualcosa di bello. Sai che quando ero piccola la cosa che adoravo di più erano le mie calzamaglie d'ape? Calzamaglie d'ape? Belle. Arrigheggialle nere. Oh, direi. Non hai mai amato qualcosa da matti? Sì. Dimmi che mi hai resato le sopracciglia. Soltanto una. Lo dice che eri un uomo d'azione prima. Pat? Scommetto che con un buon regime di fitness... Patrick. No, tranquilla. La verità è che credevo di venirne fuori e tornare come se nulla fosse cambiato. Mi sbagliavo. Posso portarti io in un posto? Hai un appuntamento galante con Will Draenor. Troppo tettoso? Vai col vestito rosso. Non voglio rientrare ancora. Voglio essere un uomo che è stato a un concerto con una ragazza vestita di rosso. Ancora per qualche minuto. È la quarta volta in due anni. Con l'ultima stava per morire. Ho promesso ai miei genitori sei mesi ed è quanto gli ho dato. Ma era prima di me. Senti, io voglio che viva. Ma solo se lo vuole anche lui. Non posso lasciarglielo fare. Non puoi cambiare la natura delle persone. E allora uno cosa fa? Le ama. Abbi cura di lui e di quelli buoni. Io non voglio che tu perda tutte le cose che un altro potrebbe darti. Ma io posso renderti felice. Oddio! Sono diventata una persona completamente diversa grazie a te. Sai che ti dico, Clark? Tu sei più o meno l'unica cosa che mi fa desiderare di svegliarmi. Wait for me to come home.